Sì, le panno. Bravo Manu, bravo Lefteri, bravo Guzzi. Trattate balla Lefteri? Inti centi si quando si ади inti calm. Iniziamo tra la bianca, invece lo scegli y geek, banca le na bugio e Di cared che23 di Milano, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.